Il secondo trimestre dell'anno sancisce lo stop dell'economia italiana. Dopo la leggera risalita registrata nei primi tre mesi, arriva un segnale di debolezza che si affianca all'inflazione in rallentamento a luglio. Nel secondo trimestre del 2019 è continuata la fase di sostanziale stagnazione dell'economia italiana che prosegue ormai, spiega l'Istat, dal secondo trimestre dello scorso anno. Dopo il lievissimo calo registrato nella seconda metà del 2018 e l'altrettanto marginale recupero del primo trimestre, il LAPI l'ha segnato nel secondo 2019 una variazione congiunturale nulla. A questo punto, se non ci dovessero essere altre variazioni nei trimestri rimanenti, il 2019 andrebbe in cantiere come un anno a crescita zero. A giugno l'Istat ha rilevato un'ulteriore flessione del tasso di disoccupazione, meno 0,1 punti percentuali, che porta il tasso al 9,7%. Si tratta della quarta flessione consecutiva ed il dato registra il risultato più basso da gennaio 2012, cioè da oltre sette anni. Il tasso di occupazione per la fascia 15-64 anni, invece, aumenta di 0,1 punti percentuali, arrivando al 59,2%, il livello più alto dal 1977, anno in cui sono iniziate le rilevazioni statistiche. Flessione anche per l'indice di disoccupazione giovanile, che si attesta al 28,1%, con una diminuzione rispetto a maggio di 1,5 punti percentuali. L'indice di occupazione cresce in modo consistente nel trimestre aprile-giugno, con un incremento di 0,5 punti percentuali, che corrispondono a più 124.000 unità, indice in crescita anche su base annua. Secondo le stime preliminari, nel mese di luglio 2019, l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo registra un aumento dello 0,1% su base mensile e dello 0,5% su base annua. Lo rende noto l'Istat. La decelerazione dell'inflazione è dovuta quasi esclusivamente all'inversione di tendenza dei prezzi dei beni energetici regolamentati, bilanciata solo marginalmente dall'accelerazione dei beni alimentari non lavorati e di quella dei servizi relativi ai trasporti. L'inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari freschi e quella al netto dei soli beni energetici salgono di un decimo di punto rispettivamente da più 0,4% a più 0,5% e da più 0,5% a più 0,6%. FCA chiude il secondo trimestre con l'utile netto delle continuing operation a 0,8 miliardi di euro, utile netto adjusted a 0,9 miliardi di euro e BT adjusted a 1,5 miliardi di euro e margin al 5,7%. L'utile netto è stato di 793 milioni, in crescita del 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sulla base dei forti risultati del secondo trimestre e delle iniziative attuate per mantenere questo slancio positivo, restiamo fiduciosi sul raggiungimento dei nostri obiettivi per il 2019, commenta l'amministratore delegato di FCA Mike Manley.